In attesa di ulteriori novità sulla possibile fusione che dovrebbe portare alla nascita di un'unica squadra bitontina iscritta alla Serie D, possibili sviluppi previsti per la giornata di domani, arriva un vero e proprio colpo di scena. Ad appena dieci giorni della promozione in Serie D, conquistata con la vittoria ai rigori sulla Fragolese, si interrompe il rapporto, che sembrava invece destinato a durare, tra Pasquale De Candia e l'Omnia Bitonto. Il tecnico Molfettese, artefice dello storico salto di categoria del club guidato dal presidente Rossiello, non guiderà gli arancioni nella prima esperienza in Serie D. Non sono chiari i motivi alla base della decisione comunicata dall'Omnia nel pomeriggio di ieri, tanto più che De Candia, ospite della trasmissione di Teleregione Fuoricampo, affermava, non più tardi di qualche giorno fa, di aver avuto un proficuo scambio di vedute con il presidente, preludio ad una probabile riconferma. Questo non è avvenuto, ed anzi, per la panchina bitontina sarebbe già pronto Massimo Pizzulli. Il 46enne tecnico, Bitontino Doc, è pronto a tornare nella sua città otto anni dopo l'ultima volta, sempre in Serie D, e dopo aver accumulato esperienze con Terlizzi, Cerignola, Biceglie, Barletta e Vigortrani, formazione condotta fino alla finale nazionale della Coppa Italia di Lettanti, persa contro gli altoatesini del San Gheorgen. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!